Dall'artista che porta i visitatori dentro l'addestramento di un algoritmo alla band inglese dei Massive Attack che riproducono il loro celebre disco mezzanine dentro le stringhe del DNA sintetico chiuso in una bomboletta spray. Alla Barbican Heart Gallery di Londra AI More Than Human, la mostra dedicata ai rapporti sempre più stretti tra esseri umani e intelligenze artificiali. Anna Halsgrove è una delle curatrici. La mostra comincia dal sogno antico degli uomini di dare vita a cose senza vita, come nel caso della religione shintoista in Giappone, dove si cerca l'anima nelle forme della natura, o nella tradizione ebraica con la figura antropomorfa del Golem, che ha ispirato opere come Frankstein o Blade Runner. Si passa poi ai pionieri, che nel secolo scorso hanno posto le basi per la creazione dei moderni computer, come Alan Turing, qui con la copia della sua famosa macchina con cui decifrò i codici nazisti di Enigma. Qual è il vostro obiettivo? La mostra vuole proprio raccontare attraverso le opere di ricercatori e artisti in che modo le tecnologie stanno modellando le nostre vite. Gli algoritmi sono presenti ovunque e allo stesso tempo sono difficili da vedere. Noi proviamo a mostrare il lato nascosto e chiediamo ai visitatori di esplorare con curiosità le diverse applicazioni nei campi dei trasporti, della salute, del commercio e dei rapporti personali. Alcuni artisti denunciano però il pericolo di una società governata dagli algoritmi. È una tecnologia di grande potenza, per questo è nostra responsabilità pensare ai problemi che potrebbero sorgere. Molti degli artisti in mostra denunciano i problemi di intromissione nella nostra vita privata o i pericoli di discriminazione legati ai pregiudizi di chi programma i codici, magari a scapito di soggetti come le donne o le persone di colore. La sala centrale della mostra è chiamata Data Awards, il mondo dei dati. Con le moderne tecnologie si allarga l'uso delle reti neurali, software che permettono alle macchine di elaborare dati, apprendere da sole e migliorarsi con il tempo. Ci sono applicazioni sorprendenti nella mostra, come i pesci robotici che nuotano con gli altri pesci o il cucciolo di cane cibernetico che reagisce con empatia agli stimoli dei visitatori. Come evolve l'era delle macchine secondo gli artisti? Nella sezione finale la mostra ipotizza il passaggio dall'Artificial Intelligence, l'intelligenza artificiale, all'Artificial Life, la vita artificiale, l'area di ricerca che porta l'informatica nella biologia e alle scienze della vita. Questo passaggio ci permetterà di migliorare i nostri corpi, sradicare malattie, produrre cibi più sostenibili e allungare la durata stessa della vita. Gli artisti e gli scienziati presenti nella mostra ci dicono che il nostro mondo è ormai dentro un'evoluzione senza fine.